è settembre le città si ripopolano e la quotidianità torna invadere le sue strade c'è però qualcuno che non si è mai fermato è l'uomo di campagna colui che ha rinunciato al caos dell'urbe per ritrovare la tranquillità in quella terra bruna che sporca le mani ma pulisce l'animo una categoria più volte bistrattata e dimenticata ma che nonostante tutto non ha mai smesso di si radicare le propietie nella speranza che quest'arte atavica non perde i suoi artisti non 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 Grazie.